Sono incontri eccezionali, soprattutto perché si fanno operazioni umane di tutto rispetto e quando c'è questo tipo di operazione umana io nel mio piccolo sarò sempre presente. Aggiungi prevenzione gratuita, perché è più allettante come prospettore. Che ci sia una chiamata a questo tipo di attenzione, a questo tipo di verità, a questo tipo di umanità.